Musica 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 Sono partito alle sette e mezza dalla Bologna a Tresna e dalle sette e mezza sono arrivato non stop sono arrivato alle due a Ivrea sono andato a trovare un amico e si sono fatte le cinque e mezza ora sono le sei e cinque secondo me avere il tettuccio è importante perché apre se invece è tutto chiuso si vede niente devi guardare ai fianchi ma in alto non puoi vedere apre una dimensione proietta in un'altra dimensione che non è solo nella parete capito ti da un'altra dimensione no? se no se no si fosse stato un'altra dimensione casito non va bene in ogni caso adesso dormo perché tra tre ore mi devo alzare come si chiama qua? il siglio? qui eh trausella ah trausella una vita che non passo da queste parti trausella ecco siamo arrivati la macchina che fa la differenza capito? la cosa te la devi fare comunque la cosa te la devi fare comunque la cosa te la devi fare comunque Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sto accendendo a Genova Grazie a tutti In 300 m at the roundabout, take the first exit and stay on Stratus dotale 1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti